Sicuramente alla ricerca di quella unità che la piazza del PD invocava rivolgendosi tanto alla testa del partito quanto all'intera nazione. L'identità del PD è forte e chiara così come il PD ha forte e chiare le responsabilità di governo che ha avuto se vogliamo tenerla sullo scenario nazionale e ha forte e chiare le responsabilità che ha nelle amministrazioni locali. Una scelta di campo ragionata rispetto allo scenario del centrodestra. Negli ultimi due mandati al Comune di Camo Basso ho partecipato a delle liste civiche, comunque sempre nell'albio del centrodestra. Ad un certo punto rispetto anche allo scenario nazionale si è fatta forte l'esigenza comunque di avere una casa di riferimento anche per fare un salto di qualità rispetto alle istanze che comunque dai territori partono e che necessariamente devono poter avere dei riferimenti a livello nazionale. Intanto riusciamo a in qualche modo a portare avanti un'unica campagna elettorale che sul territorio è abbastanza impegnativa, insomma coprire tutto il Molise non è semplice. E in particolare noi come portavoce del Molise sentiamo adesso una grande responsabilità che ci deriva anche dai risultati che abbiamo ottenuto nelle scorse tornate elettorali. Mi riferisco quindi al fatto che adesso ci presentiamo con dei rappresentanti in Parlamento, cosa che invece nella scorsa tornata non era, e con sei portavoce regionali. Per cui pensiamo di riuscire a fare un buon lavoro sul territorio mettendo appunto in campo tutte le forze. Io credo che non sia solo una speranza, ma da quello che vedo negli ultimi tempi è anche un qualcosa di attuale. Ci sono delle nuove riunioni che si stanno facendo anche nei vari circoli dei vari paesi per proprio discutere su quello che sarà il futuro del Partito Democratico, ma di tutto il centro-sinistra in genere. Quindi questi sono piccoli elementi, piccoli sintomi che però io giudico positivi. Noi per esempio come Lega stiamo lavorando, così come aveva anticipato anche l'amico Alberto Tramontano, stiamo lavorando, ci sono tanti amici che si stanno avvicinando e stanno dando anche la disponibilità per essere presenti, dare il loro contributo anche con la disponibilità all'eventuale candidatura. E' chiaro che poi queste disponibilità saranno raccolte, saranno decise insieme e poi con il coordinamento regionale saranno definite tutte le formalità sia nelle scelte di merito che in quelle formali. Noi ci presentiamo a Termoli con l'idea chiara di governare quel comune e di trasformarlo nel primo comune a cinque stelle della regione. In realtà i numeri ci sono tutti. Alle politiche abbiamo totalizzato a Termoli il 52%, che era un numero che associato ad una sodalista non si vedeva, penso, dai tempi d'oro della democrazia cristiana. Alle regionali il 49,5%, e lei mi insegna che cedere di così poco tra le nazionali e le regionali è segno che il voto d'opinione è forte e radicato. Adesso ci presentiamo alle amministrative con l'intento di dare un governo a cinque stelle a quella città. Grazie a tutti.